Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del Let's Play di Minecraft. Dopo aver vissuto negli ultimi tre episodi una fantastica avventura alla ricerca del Deep Dark e della città antica, siamo finalmente tornati a casa. Abbiamo rischiato davvero tantissimo in questa missione perché siamo rimasti con mezzo cuore ma abbiamo anche sconfitto un Warden, quindi posso ritenermi più che soddisfatto. Prima di spiegarvi che cosa andremo a fare oggi voglio mostrarvi una build che ho fatto in live di recente. Vi ricordo come sempre che le live sono ogni mercoledì, venerdì e domenica a partire dalle 20.45, quindi mi raccomando stasera vi aspetto, il link del canale lo trovate in descrizione. Vi anticipo che ci sarà per le live una piccola pausa durante il mese di agosto di due settimane perché sarò in vacanza. E ora attiviamo le shaders perché devo farvi vedere questa costruzione. Allora qui ci troviamo nella parte del canyon che vi avevo già mostrato un po' di tempo fa, attraverso questo sentiero arriviamo nella palude. La mia idea è quella di andare a costruire un villaggio su palafitte sia da questa parte sia da quest'altra perché qui ho fatto la prima costruzione che adesso vi faccio vedere. Eccola qua, è una piccola torre in mezzo a questa zona di palude, un po' come se in questa casa abitasse il capo del villaggio, quindi è la costruzione più importante. Vi faccio vedere qua intorno tutte le decorazioni e adesso andiamo a vedere anche l'interno che è abbastanza semplice. Quindi qua passiamo dentro la palude, come vedete ci sono dettagli anche sott'acqua, ho messo dei tronchi e cose varie. Di qua c'è un piccolo pontile che ci fa salire appunto ed entrare nella casetta. Come vedete ragazzi non ci sono tantissime cose ma tutto è necessario per sopravvivere. Una cosa interessante è questa perché durante la costruzione mi avete chiesto di fare un canneto e quindi ho cercato utilizzando i blocchi che ci offre Minecraft di costruirlo al meglio. Abbiamo usato la solita build hack per fare queste canne che arrivano dal fondale e poi con le foglie di mangrovia, le radici di mangrovia e quelle anche con il fango ho cercato di rendere questo terreno acquitrinoso, un po' come succede appunto in un vero canneto e devo essere sincero il risultato non è male. E arriviamo dunque all'episodio di oggi, che cosa andremo a fare? Beh durante la mia spedizione ho trovato e recuperato nel deep dark diversi blocchi che però volendo si possono anche farmare. Se seguite i vari video che pubblico sul canale questa settimana ho pubblicato una farm per la bedrock edition di questi blocchi. Ebbene andremo a fare una cosa simile ma diciamo con un principio totalmente diverso perché sfrutteremo uno spawner qui nella vanilla con la java edition quindi in questa maniera avrete questa farm sia per la bedrock sia per la java. Perché voglio sfruttare uno spawner? Perché in questa maniera l'esperienza si andrà ad accumulare all'interno degli skulk e poi potremmo recuperarla quando vorremmo. Una sorta di banca dell'esperienza. Davvero molto interessante. E lo spawner si trova qua sotto perché durante una mia piccola spedizione mentre stavo tempo fa costruendo queste cose sono stato incuriosito da un'apertura nel fondale da questa parte che mi portava a una caverna. Vedete qua è tutto aperto quindi io scendo da questa parte e qua ho esplorato ma guardate qua dietro che cosa ho trovato. Bastava scendere da questa parte e tadaan ragazzi un fantastico spawner di scheletri. Non ho nemmeno aperto la cesta ok non c'è dentro granché però prendo tutto quanto lo stesso anche perché la andremo poi a togliere e qui costruiremo la farm. Prima cosa da fare ragazzi è andare a sistemare la zona dello spawner. Come al solito andremo ad ingrandire questa stanza quindi lasceremo quattro blocchi di qua quindi dovremo togliere questo muro qua. Da questa parte altri quattro quindi anche questa parte di muro la dobbiamo togliere e quattro da quest'altra parte così. Quindi adesso vado innanzitutto a scavare tutte le pareti poi procediamo con il pavimento e sistemiamo anche il tetto perché in realtà l'altezza è giusta ma toglieremo sicuramente questi blocchi. Ok adesso abbiamo sistemato le pareti quindi 9x9 sostanzialmente togliamo la cesta e scaviamo quattro blocchi qua sotto. Qua sopra invece allo spawner ce ne devono essere tre. Mettiamo subito sopra lo spawner un mezzo blocco così che qua sopra non possano spawnare mob. Quindi quattro in profondità 1 2 3 e 4 e qua andiamo a togliere tutto quanto e quindi a svuotare la stanza fino a creare appunto un cubo di dimensioni. Dunque saranno 4 5 8x9x9. Allora stanza scavata adesso vado a creare un buco profondo due blocchi qua in quest'angolo della stanza. Andremo a sfruttare questo spawner per uccidere direttamente i mob quindi non sarà il player a ucciderli perché l'esperienza che rilasceranno finirà dentro gli skulk quindi poi la potremo recuperare successivamente. Quindi io andrò a fare 1 2 così e andiamo a scavare qua perché dovremmo trasportare con l'acqua tutti i nostri scheletri che sponeranno lì in un drop per poterli uccidere. Quindi qua andiamo a scavare altri due blocchi. Perfetto. Poi andiamo qua oltre a mettere un po' di luce a mettere temporaneamente un secchio d'acqua in modo che vediamo dove l'acqua finisce. Si ferma qua e andiamo a scavare anche in questo punto e quest'altro fino qua in fondo così. Perfetto. Adesso per non avere problemi togliamo l'acqua che poi aggiungeremo dopo. Ora qua in corrispondenza di questo blocco vado a mettere una fence quindi ci troviamo in fondo qua. Poi a distanza di un blocco quindi dobbiamo togliere anche questo andiamo a mettere tre cartelli che fermeranno l'acqua che ovviamente metteremo qua. Ah qui mi sono dimenticato dobbiamo mettere della soul send. Perfetto. Ora mettiamo i tre cartelli 1 2 e 3. Perfetto. Così qua potremo fare la colonna d'acqua e da questa parte adesso andremo a scavare la stanza dove noi staremo in modo da attivare lo spawner e poi a far cadere i vari mob, ucciderli e poi recuperare tutto quello che ci interessa. Bene andiamo dunque a scavare la nostra stanza. La facciamo un blocco più in alto sì perché il pavimento deve essere lì. Adesso la facciamo così e la facciamo proprio adiacente in modo che qua io riesca a vedere la parte con la colonna d'acqua perché metteremo del vetro in modo che visibilmente vedremo passare tutti i mob. È una cosa davvero carina. Allora vado a scavare questa stanza poi vi dico anche le dimensioni. Allora la stanza la faccio grande. 11 blocchi da questa parte per 10 da questa parte e 4 di altezza quindi abbastanza grande per poter contenere tutto quello che ci serve. Ecco qua la nostra stanza scavata quindi qua ci sarà la colonna d'acqua che farà salire i mob e poi li trasporteremo di qua e li faremo cadere in questo punto. Quindi a 5 blocchi di distanza 1 2 3 4 5 andiamo a mettere questo blocco. Perché metto questo ragazzi? Perché i blocchi diciamo artificiali cioè creati dal player non possono essere trasformati nei vari blocchi skulk del deep dark. E ora per evitare che anche gli altri blocchi le pareti possano trasformarsi nei vari blocchi skulk. Andiamo a scavare qua due blocchi per parte quindi in questa maniera. Ok perfetto. Voilà anche qui direi sì due blocchi per parte e andiamo a scavare questo buco così. Perfetto. Questa è la zona ossia questi blocchi di questa parte di pavimento saranno quelli che verranno trasformati appunto nei blocchi del deep dark con il sistema che vi farò vedere tra poco. Ora per evitare ulteriormente che si espanda qua andiamo a mettere delle slab. Quindi contorniamo tutta questa parte così con delle slab. In questa maniera i blocchi si formeranno solo su questa parte di pavimento. Quindi vado a togliere anche qua così. Perfetto. E vado a mettere tutte le slab intorno così. Perfetto. Voilà. Guardate che bellezza questa cosa. Poi a livello di decorazioni ci possiamo anche pensare. Tolgo anche questi due anche se già so che si trasformeranno. Perfetto. Direi che così va più che bene. Su questo blocco utilizzeremo la dripstone. Quindi una novità perché non l'abbiamo mai utilizzata per questo scopo. Adesso andiamo a mettere due blocchi qua sopra. Dobbiamo metterli perché i mob moriranno qui e quindi ci deve essere una connessione in qualche modo verso questa parte qui. Altrimenti ragazzi non si propagerà tutto in questo punto. Poi qua sopra andiamo a mettere una slab così. Perfetto. E ne mettiamo altre due qua sopra perché non vogliamo che i nostri blocchi del deep dark si vadano a propagare sul soffitto. Quindi qua andiamo a creare la parte. Qui ci sarà ovviamente il drop che arriverà. Così. Perfetto. E qua per evitare che i mob ci possano colpire andiamo a fare una cosa più o meno simile. Quindi metto questo. Mettiamo qua così. Ok. Perfetto. Togliamo questo e mettiamo anche qua un altro paio di blocchi. Così. Ok. In questa maniera siamo sicuri che i mob non ci possano colpire. Moriranno qua. Non c'è connessione con il soffitto e invece qua c'è connessione con questa parte di pavimento. Allora vediamo di creare questo tunnel verticale. Vado adesso a togliere questo blocco perché era solo per farvi vedere e creiamo 15 blocchi di drop. Quindi 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Ah ok. Siamo finiti qua dove... Ah è anche aperto. Perfetto. Qua dove si va? Ok. Ok. Benissimo. Non avevo notato questa cosa. Molto bene. Niente. Quindi a questo punto qua dobbiamo andare a chiudere con la pietra. Questo sarà il nostro drop e qui dovremo mettere 3 blocchi praticamente di altezza e dobbiamo arrivare se non erro da questa parte. Quindi così dobbiamo poi andare ok a scavare e a fare il buco verticale per raggiungere la parte con lo spawner. Ragazzi ci siamo. Allora questo è il buco di salita e questo è quello di discesa. Ok. Qua devo sostituire ancora qualche blocco. Perfetto. Qua dobbiamo andare a mettere l'acqua e dall'altra parte appunto il drop. Quindi qua andiamo a mettere del vetro che ci servirà per vedere cosa succede qua con i mob che passeranno. Quindi filtrerà forse un po' di luce ma non dovrebbe interferire più di tanto con lo spawner. Anzi non dovrebbe proprio cambiare nulla. Qua saliamo di nuovo fino in alto. Arriviamo fin sopra qua. Ok. Qua dobbiamo andare a mettere un cartello per fermare l'acqua. Quindi così. Ok. Qua possiamo andare a mettere l'acqua in questo punto che dovrebbe arrivare qua e fermarsi. E da questa parte poi pianteremo le kelp per fare la colonna d'acqua precisa. E qua cadranno i mob. Perfetto ragazzi. Abbiamo creato il nostro drop. Allora ho tolto ancora la dripstone perché se cado mi faccio davvero male. Allora vado a mettere il blocco qua. Qui possiamo già togliere questa torcia e mettere l'acqua in questa maniera che spingerà il diciamo il mob fino a qua. Qui andiamo a creare la kelp fino in alto. Ok. Così. Perfetto. I mob verranno trasportati qua. Cadranno di qua. Vedete che qua mi facevo malissimo e moriranno. Ora vado di qua. Tolgo la kelp e il percorso dovrebbe essere a posto. Vediamo. Ok. Arriverò di qua e piano piano posso togliere anche questa cosa e verrò trasportato di qua e ricadremo giù. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta ragazzi. Ora per davvero posso fare così. Adesso non mi resta che andare ad aggiungere l'acqua qui per spingere i mob direttamente dentro questa zona. Questa la possiamo anche levare. E poi andare a togliere tutte le torce per attivare lo spawner e chiudere. Quindi abbastanza semplice. Allora ci siamo. Mettiamo acqua qui. Poi acqua al terzo blocco. Così creiamo una fonte infinita. Andiamo a metterla su tutta quanta questa parte. Vedete che l'acqua arriva fino a lì. Ok. Dovrebbe essere a posto così. Togliamo tutto. Quindi togliamo queste e scappiamo sostanzialmente perché i mob inizieranno a sponare subito. Ecco appunto. No 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 no. State lì. Perfetto. Ok. Ragazzi dovrebbe già funzionare. Vediamo un attimino. Eccolo sì. L'ho visto passare. Una scheggia. Ok. Adesso piano piano dovrebbe arrivare qua e cadere. Vediamo un po'. Ehm se arriva. Eccolo. Perfetto. Come vedete i drop sono caduti qua. E questi potremo poi andare a recuperare. Manca però una cosa importante. Come creare poi tutti i blocchi del deep dark. Adesso ci arriviamo. Ecco qua il blocco che ci serve ragazzi. Lo skulk catalyst che abbiamo recuperato nel deep dark. Lo dobbiamo mettere praticamente a un paio di blocchi qua sopra. Quindi direi. No anche qua possiamo metterlo. A un blocco così. Ragazzi è fatta. Questo blocco dovrebbe creare tutti gli altri qua sotto. Vediamo se è vera questa cosa. Vediamo. Ok. Ok. Dobbiamo solo aspettare ragazzi perché vedete i blocchi si stanno già propagando in questa zona così. Magnifico. Fantastico. meraviglioso. Quindi non dobbiamo fare altro che restare in questo punto e guardate anche che cosa può sponare ragazzi. Questi sensori può sponare un altro di questi e con una probabilità bassa anche il blocco che fa sponare il warden. In realtà il warden non potrà sponare anche se verrà attivato. Quindi potete stare tranquilli. Non è affatto male ragazzi. Non è affatto male. Adesso questo lo posso recuperare con questa cosa così. Perfetto. E ora aspetto che si propaghi in tutta questa zona. Dopodiché prenderò una zappa e andrò a recuperare tutto quanto. Guardate come ribolle di esperienza. Guardate si stanno creando altri blocchi. fantastico. Vedete che è tutto quanto limitato qua. Ecco vedete che qua questo si sta attivando ma io nonostante lo attivo tante volte il warden non spona. Quindi potete stare tranquilli ve lo faccio vedere. Vedete quante volte lo sto chiamando. Perfetto. E ora ragazzi possiamo recuperare questo volendo con silk touch. Tranquillamente così. Ci vorrà un po' eh. Anche questi possiamo recuperarli con silk touch quindi ne abbiamo infiniti. Questi anche volendo ma se facciamo così ragazzi ci rilasceranno anche esperienza. Questi li possiamo distruggere direttamente e ci daranno esperienza anche loro. Quindi guardate qua l'esperienza che recupero. fantastico ragazzi. È una banca di esperienza. Poi non ci resta che andare a ripristinare questi blocchi per far ripartire tutto quanto. Adesso mi state facendo venire un'idea però a questo punto. Anzi due idee potrei avere ragazzi. Potrei creare un meccanismo simile a quello della bedrock per ripristinare i blocchi in automatico e potrei fare anche in modo che degli alley possano recuperare i drop e portarli in un punto con le ceste. Ragazzi ci penso perché potrebbe essere qualcosa che potremmo fare la prossima settimana. E dunque ragazzi siamo giunti anche oggi al termine di questo episodio. Spero che vi sia piaciuta questa nuova farm davvero interessante ma che dalle mie idee potremo migliorare tantissimo. Quindi mi raccomando vi aspetto anche la prossima settimana. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao a tutti!